ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora c'è stata una persona di voi che mi ha chiesto in realtà di fare questo video dove mi ha detto perchè non presenti i tuoi animali allora dovete sapere che io ho tanti gatti e un cane allora e metti qua metti qua per quanto riguarda i gatti è più complicato perchè essendo troppi devo radunarli però conto prima o poi di fare anche un video con tutti i gatti devo anche riflettere su come fare però nel frattempo vi voglio presentare questa peste che mi sta schiacciando lei ha praticamente sei anni diciamo che a ottobre ah io dicevo che a ottobre ne fa 7 si chiama neve quando è arrivata non sapeva neanche camminare non sapeva abbaiare e poi è diventato un delinquente mangia mutande un delinquente dispettoso si ma magari se ti sposti mi posso vedere anch'io e soprattutto anche vanitosa perchè lei vorrebbe stare al centro dell'attenzione dopo tutto questo è un video praticamente per far conoscere lei io che c'è che c'è che c'è che c'è quando è arrivata praticamente io non volevo neanche neanche vederla perché avevo paura dei cani però è passato perché non ho saputo resistere a questo faccino vuoi dire qualcosa tu? non dice niente praticamente è rimasta senza parole vabbè comunque noi vi vogliamo augurare una buona giornata a presto ragazzi grazie